ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi torniamo a parlare di incisori laser torniamo a parlare dello scoop s30 ultra vi ho già fatto vedere il modello da un tg watt oggi vi farò vedere quello da 22 watt un incisore laser praticamente uguale all'altro quello che cambia appunto è il modulo infatti in questa occasione ho sostituito solamente il controller e il modulo è utilizzato praticamente allo stesso telaio questa volta però come vedete c'è anche quest'altro oggetto che è la telecamera della scoop che ci consente di poter vedere su light bar quello che abbiamo sul piano di lavoro e sì ma questo è 60 per 60 quindi diciamo non è adatto ma vi faccio vedere comunque come si monta e capirete comunque il concetto perché questo tipo di telecamera è adatto per poter essere utilizzato sugli incisori laser che abbiano un'area di lavoro da 400 per 400 quindi lo scoop fanno per esempio s30 oppure gli s9 s10 eccetera ma ora che abbiamo quadratura vediamo quello che ho realizzato alcune prove per renderci conto delle potenzialità di questo modulo sia a livello di precisione che a livello di potenza quindi guardiamo e allora questa quindi è la struttura che già conoscete perché ve l'ho fatta vedere per ls30 ultra da 11 watt ho sostituito solo il controller semplicissimo basta svitare queste viti queste due più questa poi questa da questo lato togliere il controller e mettere quello nuovo per quanto riguarda il modulo invece però solita procedura basta svitare infatti le due viti dalla parte posteriore sfilarlo e inserirlo come si fa con tutti i moduli della scurt fan come vedete è dotato anche di air assist questa protezione questa volta in metallo solitamente in plastica regolabile sia in altezza che in inclinazione con una bella ventola sulla parte superiore il tutto ovviamente viene fornito con un manuale di istruzioni scritto anche in italiano anche se all'interno ci sono solamente un paio di indicazioni sul montaggio questo è invece quel fogliettino che serve per poter calibrare la telecamera diamo subito un'occhiata allora sulla parte bassa abbiamo l'obiettivo che va ad inquadrare nell'area di lavoro come vedete però è molto molto grande rispetto alle dimensioni consentite quindi vi ripeto vi farò vedere solamente alla telecamera e poi metterò qualche inquadratura che riguarda le fasi di calibrazione eccetera allora si può fissare utilizzando queste staff e vanno abitate nel profilo quindi sfruttando le solite tinaz quindi in questo modo solo per il caso specifico avendolo montato da questa parte per farlo vedere meglio ma conviene montarlo alla parte opposta non abbiamo facilità di lavoro perché abbiamo questa protezione all'interno passa infatti il filo che va a comunicare col sensore di fine corsa che troviamo da entrambi i lati quindi per tutti e due gli assi x e y sulla parte frontale del telaio troviamo quindi anche l'alloggiamento per poter utilizzare il cilindretto che serve per avere la distanza corretta quindi per poter mettere a fuoco ma torniamo a parlare quindi di quello che ho ottenuto prima voglio farvi vedere le varie prove innanzitutto voglio fare una piccola premessa non ho fatto delle prove estreme ho deciso che con questi incisori laser mi fermerò a misura diciamo che siano quelle più frequentemente utilizzata quindi come vedete con questo pezzo di multistrato da 10 mm sono riuscito a tagliarlo tranquillamente con due soli passaggi ad una velocità di 200 mm al minuto che è una velocità non lentissima quindi adeguata per poter fare dei lavori sbrigativi relativamente sbrigativi e senza sfruttare tanto l'incisore laser perché al 90 per cento di potenza lo preserviamo da eventuali usure precoci quindi per quanto riguarda il taglio abbastanza potente due passate riesce a farlo perfettamente ho fatto le prove anche su questo da 6 mm quindi un altro multistrato e come vedete pure qua sono riuscito a tenere dei ben risultati quindi è riuscito a tagliare considerate che non ho staccato quello che non si è staccato autonomamente per esempio da questo lato abbiamo ancora un poco di materiale io lo considero tagliato però non voglio staccarlo la stessa cosa da quest'altra parte ovviamente è staccato perché se ha tagliato quelli successivi figuriamoci se non taglia questo quindi questo lo possiamo spostare tranquillamente col dito come vedete si è staccato e riesce a tagliare quindi anche con 200 mm al minuto con il 64 per cento di potenza con un solo passaggio stiamo parlando dei 6 mm ma se noi volessimo tagliare degli spessori molto più ridotti come in questo caso 2 mm li ha tagliati in un batter d'occhio a 600 mm al minuto con il 70 per cento di potenza tagli pulitissimi grazie all'era assist infatti come vedete non ci sono assolutamente segni di bruciatura sia per quanto riguarda le dimensioni più grandi come questo che per quanto riguarda le dimensioni più piccole guardate qua questi spazietti nella questo pezzettino minuscolo sarà un decimo di millimetro tra la e la p della scritta jeep quindi riesce a lavorare meravigliosamente e nella scritta jeep sulla j ho fatto pure il logo quindi minuscolo sarà forse un millimetro con la scritta reneged praticamente quasi invisibile veramente molto molto piccola è riuscito a lavorare tanto bene lo stesso per quanto riguarda il riempimento quindi questa l'ho fatta con questo contrasto forse devo regolare un pochettino l'interlinea però l'effetto finale mi piace tantissimo e qua poi ha scavato con una velocità elevatissima facendo l'effetto in negativo molto bello uscito per caso questo effetto ma mi piace davvero tantissimo lo stesso poi per quanto riguarda le incisioni allora ho impostato 12.000 mm al minuto con il 50 per cento di potenza con una scansione a 45 gradi e in questo caso non è venuto proprio bene non sono riuscito a capire per quale ragione però comunque il ritaglio della foto non era quella che doveva essere quindi l'ho rifatta correggendo il taglio e in questo caso il risultato è venuto perfetto considerate che in questa foto ci sono lo scelta appositamente perché ci sono dei dettagli che fanno capire se un incisore laser lavora bene oppure no quindi un soggetto completamente nero con un giubbotto in pelle di colore nero con dei riflessi lucidi e si vedono perfettamente una collana in metallo anche questa si vede benissimo l'altro invece un abbigliamento di colore bianco e riusciamo a capire che a questo abbigliamento incluso il berrettino grazie alle sole sfumature ed è riuscito a riportare tutti i vari dettagli quindi le ombreggiature del viso tutto quello che c'è in questa foto effettivamente come doveva essere questa foto è venuta molto bene ecco così si capisce ancora meglio che non abbiamo i riflessi della luce quindi sia per quanto riguarda la fotografia che per quanto riguarda l'incisione con il riempimento il taglio su diversi spessori quindi 2 mm 6 mm e 10 mm io sono rimasto soddisfatto anche perché lo ha fatto ad una buona velocità parliamo ora di quello che non mi fa impazzire quindi il sistema di messa a fuoco ancora con queste rotelline quindi bisogna svitare queste viti e poi come vedete possiamo alzare ed abbassare quindi riuscire a gestire la distanza grazie al cilindretto che vi ho fatto vedere poco fa e questo per me è un po scomodo avrei preferito un sistema ormai tanti gisori laser la rotella sulla parte superiore per poter regolare la messa a fuoco per il resto difetti non è a una configurazione un pochettino spartana un pochettino grezza poco curata quindi con questi sensori di fine corsa in vista però funziona bene è giusto che vi parli anche di questi dettagli perché comunque si fa un confronto si fa una recensione si deve parlare delle cose belle e delle cose brutte adesso rimuovo il modulo e ve lo faccio vedere anche da sotto quindi questo è il nozzolo da cui fu riesce l'aria assieme al raggio del laser le alette di raffreddamento e poi il vetrino che obiettivamente sembra funzionare benino non so quale certificazione abbia se effettivamente filtra o meno qua sul modulo abbiamo la scritta quindi che ci conferma la potenza 22 watt e per quanto riguarda il punto di incisione laser 0,08 per 0,1 quindi un punto di incisione laser sicuramente non piccolissimo quindi non dovrebbe darci una grandissima precisione e invece ragazzi la precisione è elevata quindi come avete visto sia per quanto riguarda la fotografia che per quanto riguarda i tagli sono veramente rimasto contentissimo considerate che il punto di incisione laser così pulito quindi l'incisione così pulita che le scritte non ci sono staccate con molta facilità erano completamente tagliate ma sono rimaste alloggiate all'interno di queste sagomature quindi di tutto quello che vi ho detto adesso vi faccio vedere anche le varie riprese e adesso torniamo a parlare un poco di della telecamera allora innanzitutto è possibile regolare anche l'escursione di questi due bracci quindi si può spostare in avanti e indietro così come si può sollevare e abbassare svitando questo pomello lo stesso che troviamo dalla parte opposta quindi ci permette di regolare in modo da avere la giusta distanza per poter fare una corretta inquadratura all'interno della confezione troviamo quindi sia questo sostegno per poterlo fissare sul telaio della scuola ma essendo una telecamera universale ci vengono date in dotazione anche altri sistemi quindi questo che ci permette di fissarlo ad un telaio per esempio di un altro incisione laser in modo da poterlo sfruttare tranquillamente all'interno della confezione troviamo anche questo metro per poter regolare la distanza dal piano di lavoro e poi una guida rapidissima sul montaggio non c'è scritto granchè e ben tre foglietti di questi che però si possono scaricare anche dal sito di light bar tutto ovviamente viaggio ben protetto quindi all'interno di questa scatola con queste sagomature e per quanto riguarda quindi la configurazione non potendolo utilizzare con questo incisore laser perché le misure non vanno bene metterò delle immagini sovraimpressione in poche parole è necessario a fare una calibrazione dell'obiettivo da andando sulla voce specifica su light bar dopo aver fatto la calibrazione l'obiettivo si fa anche l'allineamento facendo questa procedura poi avremo una sovrapposizione di quello che c'è sul piano di lavoro che comparirà praticamente sul piano di lavoro originale di light bar non sarà più bianco ma avremo le due immagini dovrebbe essere in questo modo potremmo posizionare un oggetto sul nostro piano di lavoro e fare l'incisione senza dover fare per forza il frame in anticipo quindi molto comodo da questo punto di vista perché se si devono fare delle incisioni ripetute risulta il grande valido aiuto quando si devono fare delle incisioni ad esempio come questa come vedete è un circa un millimetro e mezzo più alta sul margine inferiore ma va benissimo lo stesso questa può essere utilizzata in questo modo oppure può essere semplicemente corniciata quindi la parte marginale non si vedrebbe in questo caso sarebbe di aiuto perché serve essere precisi poi all'interno della confezione troviamo anche questi accessori quindi una pinzetta all'interno c'è anche una lente di ricambio e una pezzetta per poter pulire più questi altri accessori che servono per poter pulire quindi abbiamo degli scovolini la chiave per poter montare il ovviamente il laser che io non ho utilizzato sia perché solitamente utilizzo le mie chiavi anche se questa effettivamente la ritengo molto valida come tipo di chiave comoda questa chiave che serve per poter regolare la tensione delle ruote eccendriche come vedete scorrono sui profili ci sono le cinghie pure che vanno regolate ma questo è una cosa che vi faccio vedere ad ogni incisore laser questa volta sorvoliamo questi dettagli e questi sono dei distanziatori effettivamente anche belli pesanti che si possono utilizzare sia per sollevare il pezzo quando si deve tagliare ovviamente come tutti gli incisori laser della serie s abbiamo anche l'air assist automatico quindi questo permette grazie ad una pompetta che si attiva automaticamente tramite le impostazioni che daremo sulla bar di poter far fuoriuscire l'aria dal nostro compressore quindi poter attivare attivare l'air assist nei layer che ci interessano quindi realizzare un progetto complesso che abbia dei tagli delle incisioni delle scritte eccetera alcune nelle quali vogliamo che si attivi in automatico e alcune nelle quali invece non si deve attivare effettivamente quando non c'è questa funzione bisogna sempre star vicino all'incisore laser per poter attivare disattivare rapidamente il compressorino cosa poco comoda perché bisogna stare molto attenti a non sbagliare altrimenti si rischia di non avere l'effetto desiderato e dunque anche questa volta sculto ha fatto un bel prodotto un incisore laser da 22 watt con la giusta potenza per poter lavorare anche su un centimetro ma che nonostante il punto laser non piccolissimo ci permette di avere questi risultati quindi una fotografia vera e propria sul legno e del ritagli che io ritengo veloci perché li abbiamo realizzati ad un'ottima velocità nonostante il punto laser anche in questo caso tagliati perfettamente per quanto riguarda fungo di emergenza wifi eccetera eccetera di questo non abbiamo parlato sugli altri quindi questo argomento questa volta non lo trattiamo detto questo vi ricordo di andare giù a guardare il link perché potreste trovare un codice di sconto vi invito anche di iscrivervi al mio canale mettere mi piace cliccare sulla campanella dopo essere iscritti e ci vediamo tutti nei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto